Nel periodo tra maggio e ottobre, ossia nei mesi più caldi e umidi, si ripropone la problematica relativa alle malattie trasmesse dalle zecche, in particolare per quanto attiene al bellunese, come messo in luce da una nota dell'Ulss Dolomiti, la borreliosi di Lyme e la TBE encefalite da zecca. Negli ultimi dieci anni, fa sapere ancora l'Ulss, si sono registrati in provincia circa 700 casi di borreliosi e il 40% dei casi nazionali di TBE. Per tale motivo, la Regione Veneto ha individuato nell'ospedale San Martino di Belluno il centro di riferimento per le patologie trasmesse da zecche. L'azienda sanitaria ricorda che mentre la borreliosi di Lyme è curabile con la terapia antibiotica, la TBE non beneficia di farmaci specifici e può essere prevenuta con la vaccinazione che è fortemente consigliata, sottolinea l'Ulss, a chi frequenta aree endemiche. Il ciclo vaccinale è costituito da tre dosi con successivi richiami ogni 3-5 anni. Secondo quanto stabilito dalla Regione, dal maggio 2019 il vaccino anti-TBE per i residenti dell'azienda Ulss 1 Dolomiti è gratuito. Dopo la sospensione per l'emergenza Covid, la vaccinazione anti-TBE è ripresa all'ospedale San Martino in modalità drive-in. Dal 26 giugno circa 1.500 sono i bellunesi che si sono sottoposti al vaccino, circa 500 persone a weekend, di cui 600 all'ospedale di Feltre. A breve sarà attivata questa modalità anche in altri distretti. Da quando sono state riaperte le visite ambulatoriali, ha fatto sapere il direttore delle malattie infettive, dottor Renzo Scaggiante, vediamo almeno 4-6 casi di punture di zecchia alla settimana, mentre nell'ultimo mese abbiamo ricoverato 4 persone con TBE, tutte dimesse e guarite. Ha concluso Scaggiante.